E saluti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua in questo nuovo video per dirvi cosa Per dirvi che lunedì 10 aprile sul canale di Settimo Cinema Che trovate in descrizione, lo trovate comunque ovunque Lo trovate anche nella scheda qui in alto a destra Ci sarà una live stream on podcast in cui faremo vedere il primo teaser teller del film E annunceremo un sacco di novità tra cui video, giorni di riprese, siti, attenzione Insomma non potete assolutamente perdervela Il link della live lo trovate ovunque, l'ho messo dappertutto E nulla, non mancate, mi raccomando iscrivetevi sia qua che a Settimo Cinema Così da non perdervi assolutamente niente E nulla, bella ragazzi E nulla, bella ragazzi